La verità. Oggi parliamo di verità e cerchiamo di capire insieme perché la verità sia uno dei migliori modi per poter garantire che il nostro rapporto sia sempre in piena fiducia, mentre la bugia sia invece il miglior modo per poter uscire con le gambe rotte. Facciamo qualche esempio. Se tu devi fare un'opera, devi svolgere un'opera. Per esempio devi andare in un cantiere per conto di un amministratore di condominio e quindi fare un sopralluogo. L'amministratore di condominio ti chiama, ti dà questo incarico e ti chiede che tu esca martedì. Martedì pomeriggio ti chiama l'amministratore e l'amministratore vuole avere una risposta che tu gli dica sì sono uscito a fare quel sopralluogo, ma tu non sei andato. Qual è la prima cosa che ti viene in mente? Purtroppo questo pomeriggio è caduto un aereo sopra la mia macchina e non sono potuto andare. Oppure gli dici che è peggio? Sì sì sono andato a fare il sopralluogo ripromettendoti nel tuo essere di uscire domani mattina molto presto. L'amministratore non è stupido e quindi riuscirà a capire che tu non sei andato dalla risposta che gli hai dato, dal tono della voce che hai utilizzato. Per cui l'amministratore sicuramente appena troverà un artigiano bravo come te ti sostituirà perché ha perso la fiducia in te. Per questo è un ottimo modo per rompersi le ossa. Ti racconto una storia. Un mio cliente mi ha portato delle fatture per fare un decreto ingiuntivo. Ho fatto il decreto ingiuntivo che è stato posto. è stato posto perché Controparte ha detto che quei lavori non erano mai stati ordinati, quelle fatture erano così generiche da non poter nemmeno essere delle fatture vere. Siamo quindi giunti alla prima udienza ed io sono arrivato con delle email nelle quali Controparte scriveva al mio cliente di fare un muretto di una certa dimensione e gli ordinava di fare uno scavo di un certo numero di metri cubi. Queste diciture indicate nella mail erano esattamente le diciture indicate nelle fatture. Quando io ho fatto vedere questi documenti l'Avvocato ha chiesto di Controparte una breve sospensione dell'udienza. Siamo usciti dall'Aula del Tribunale e mi ha detto ok dimmi cosa vuoi per chiudere questa causa. Controparte è uscita con le ossa rotte. Perché? Perché non solo mi ha dovuto pagare le spese legali, il capitale, gli interessi, ma ho anche preteso che pagasse un debito di un altro mio cliente. Io ho accontentato due clienti e lui invece ci ha rimesso tutto. Qual è la morale di questa vicenda? Che lui non ha detto la verità al proprio Avvocato, gli ha nascosto il fatto che esistessero queste due mail. Perché? Perché in quel momento voleva convincere il proprio Avvocato di essere assolutamente da parte della ragione, raccontando una bugia. Ed è qui l'errore. Perché l'Avvocato avrebbe potuto utilizzare una strategia e degli strumenti completamente diversi per poter risolvere il suo problema. Per esempio quell'Avvocato mi avrebbe potuto telefonare prima di fare la causa, conoscendo la verità, dicendomi paghiamo tutto però un po' alla volta, oppure fammi un po' di sconto, oppure dagli interessi possiamo anche dimenticarceli. E ci iniziava una trattativa, una negoziazione, ma sicuramente questo non avrebbe avuto delle spese in più. E questo succede nella vita di tutti i giorni, perché verità vuol dire fiducia. Vediamo però cos'è il rapporto con un Avvocato, il rapporto di fiducia con un Avvocato, che è dove la verità è estremamente importante. Il rapporto tra l'Avvocato e il cliente non è cliente parcella-Avvocato, ma è cliente fiducia-Avvocato. E nel momento in cui il cliente racconta bugia all'Avvocato, quella fiducia viene a cadere e pertanto non si può lavorare al meglio per il proprio cliente. Continua a seguire i miei video, seguimi sui social, seguimi sul mio sito internet e se hai delle domande scrivile, risponderà volentieri.